Meglio un morto in casa che un marchigiano alla porta? Nessun problema, farvi cambiare idea sarà Alessandro Andreozzi, classe 2003, star di TikTok da 5 milioni di like e 130 mila seguaci. Per conoscerlo bisogna arrivare nel cuore delle marche. A Tolentino, grazie ai suoi video, il dialetto marchigiano spopola nelle piattaforme social. Il dialetto marchigiano in realtà è arrivato da poco, io ripetisco più volte il concetto della versatilità che è importante, però quando parli il tuo dialetto e la lingua da dove vieni sei molto più naturale ed è anche questo il segreto per andare bene. Basta scorrere il suo profilo per fare un viaggio 4.0 nella cultura marchigiana dei più giovani, così è l'avanguardia da diventare virale anche tra i teenager del Sud America. Io parlo di un dialetto che già tanto se lo conoscono in Italia e quindi essere arrivato addirittura in Sud America mi fa molto piacere, non credo esista un video così marchigiano. Alessandro ha iniziato a fare video a 10 anni, poi l'Accademia di Recitazione a Roma, ma è tornato nella sua città di cui spesso ha raccontato le ferite del sisma. Ecco allora che TikTok si riempie di suoi video tra i cantieri, tra un campanile e una gru per parlare di ricostruzione. L'ho spiegato cercando sempre di usare la comicità perché poi con la comicità si arriva anche al messaggio che vuoi mandare piano piano, così di modo che sia leggero. Molte persone anche mi hanno scritto che mi hanno raccontato la loro storia del loro paese, come è stato asfaltato un po' dei problemi che ce ne sono stati appunto con il terremoto. Sogna il cinema e lo spettacolo, nel frattempo ho radunato i creator delle Marching of Topic, un progetto fatto di giovanissimi talenti di Corridonia, Macerata e Porto Sant'Elpidio, ma una domanda lo attanaglia e sembra non lasciargli scampo. Una cosa mi dovete spiegare, perché i napoletani possono parlare napoletano, i romani possono parlare romano, io sono marchigiano e non posso parlare come me pare? Grazie a tutti.